17 sono i comuni che dallo scorso primo aprile necessitano di un pediatra. Il grave disagio si registra nell'ambito del distretto sanitario 69 Capaccio Roccadaspide. Dopo la segnalazione all'asela di Salerno della Codacons, anche l'ente comunale di Roccadaspide guidato dal sindaco Gabriele Iuliano fa sentire la propria voce inviando una missiva al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Nella lettera si evidenziano i disagi per centinaia di famiglie e circa 900 assistiti. Pur essendo presenti nell'ambito del distretto sanitario pediatri di libera scelta, essi operano limitatamente nel territorio di Capaccio Pestum. Pertanto, sottolinea il sindaco Iuliano, i bambini residenti nei comuni dell'area interna risultano fortemente penalizzati dal momento che già vivono il disagio sul piano economico sociale, ma soprattutto per la morfologia del territorio e la carenza di infrastrutture viarie che comporta un eccessivo insostenibile allungamento dei tempi per raggiungere i pediatri di Capaccio Pestum. Una situazione molto delicata vista anche l'emergenza da Covid-19, dunque la sollecitazione alle autorità competenti ad individuare una soluzione del problema immediata.